Innanzitutto grazie, salve a tutte e a tutti, grazie per questa bella presentazione e voglio ringraziare anche per questo ricordo a Pater Senna con cui abbiamo seguito diversi convegni e a cui ci univa una grande, spero una grande amicizia, quindi grazie ancora per averlo ricordato oggi. Comincio subito con il mio intervento che, come è stato anticipato, è dedicato a una forse delle più importanti figure del misticismo tedesco, Maester Eckhart, che vedrò da due prospettive diverse, come adesso vedremo. Maester Eckhart è sicuramente, e mi scuserete se utilizzerò questo termine, è sicuramente una personalità filosofica di estrema importanza. In Germania, attraverso, nei secoli XIII e XIV, ha discusso questioni filosofiche importantissime in volgare e in medio-alto tedesco, dando così un contributo fondamentale alla nascita e allo sviluppo di un linguaggio filosofico tecnico in cui si sarebbero espressi più tardi Kant, Hegel e Marx. Ora, all'epoca in cui Eckhart visse ed operò, il linguaggio filosofico tedesco, la terminologia tecnica tedesca, era sicuramente agli inizi e cercava di tradurre tutto il quadro concettuale della filosofia e della scienza greca, araba e latina in un volgare, un po' l'operazione che fece Dante in italiano, esattamente tra l'altro nello stesso periodo di tempo. Ora, Eckhart occupa all'interno del contesto della volgarizzazione o meglio della trasposizione di contenuti filosofici in volgare un ruolo di primo piano. Ma c'è anche un secondo contributo che Eckhart ha dato, perché egli cercò, come più volte sottolineato dalla scuola di Bochum che prima è stata ricordata, ha cercato di superare la frattura che si era creata tra il popolo e l'élite ecclesiastica. Eckhart visse tra gli anni 1260-1328 un'epoca molto importante caratterizzata dalla formazione di una cultura urbana. Egli visse e operò nelle città più importanti della Germania di allora, sicuramente Colonia è la più famosa, ma anche Erfurt, che costituisce uno dei centri più importanti in cui Eckhart si trovò a vivere, ad operare. Apparteneva, lo sappiamo benissimo, all'ordine dei Domenicani, che era un ordine di recente formazione e con caratteristiche tipicamente urbane. Molti Domenicani erano anche professori universitari e in questo ordine, profondamente radicato nella cultura cittadina, era abituale una rotazione democratica degli incarichi di comando, cosicché Eckhart si trovò per molto tempo ad assumere in tempi diversi le funzioni non solo di professore universitario e di insegnante, ma anche di priore conventuale e provinciale. Insegnò per tre volte a Parigi, ma anche guidò le due province dei Domenicani in Germania, ovvero prima la Sassonia e poi la Teutonia, venendo o seguendo, succedendo ad un altro Domenicano di profonda impronta filosofica, di cui abbiamo tra l'altro appena sentito parlare, ovvero Teodorico di Freiberg. Ora, l'appartenenza di Eckhart ad un ordine religioso e il titolo della cattedra che occupava Parigi, che era una cattedra ovviamente di teologia, potrebbero far pensare che Eckhart non abbia molto a che fare con la filosofia, ma piuttosto che vada considerato come un teologo, o addirittura, e su questo molto è stato scritto, come un mistico. E inoltre, consentitemi questo riferimento forse un po' polemico, nel Medioevo è stato più volte scritto che non c'è mai stata una vera riflessione filosofica, né d'altronde poteva esserci, dato che gli intellettuali del tempo erano o tutti credenti oppure operavano nel recinto del dogma. Questa è una comunista opinio che è molto difficile da mettere in discussione. Ora, poiché la filosofia è una ricerca libera, autonoma e senza presupposti, l'intransigenza dogmatica non avrebbe lasciato, non avrebbe lasciato alcuno spazio alla riflessione filosofica. Al massimo avrebbe permesso la teologia. Eppure il caso di Eckhart, come molti teologi del tempo, mostra che fare filosofia nel Medioevo non solo era possibile, ma era anche un'impresa di grande interesse. Per rimanere nel caso di Eckhart, che è l'autore, il teologo a cui sarà dedicata la conferenza di oggi, Eckhart ha cercato e con successo di argomentare razionalmente tutto ciò che aveva insegnato e scritto. Dunque il mio contributo di oggi sarà dedicato a presentare il progetto culturale di Eckhart, mostrando anche il suo impatto sulla sua concezione di spiritualità, che è riassunta nel termine, nell'espressione homo divinos, uomo divino, o anche nell'espressione uomo nobile, homo nobilis. Vedremo che sono due concetti profondamente legati alla dualità dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore. E dunque la prima parte del mio contributo sarà dedicata a esplicitare la relazione tra filosofia e sacra scrittura, secondo Maester Eckhart, nella seconda descriverò invece l'esperienza dell'uomo interiore ed esteriore alla luce delle teorie Eckhartiane. Ora, in tutte le sue opere, sia latine che tedesche, Maester Eckhart tematizza spesso la questione della relazione tra teologia e filosofia, o tra filosofia e sacra scrittura, o tra filosofia e spiritualità. Nel testo che avete a disposizione do alcuni esempi. Il primo, tratto dal Liber Benedictus, opera in volgare, in tedesco, Maester Eckhart scrive Tutta questa dottrina è scritta nel Santo Vangelo e si comprende con certezza alla luce naturale dell'anima razionale. Il secondo passo è tratto dal sermone tedesco numero 101, quindi ancora un'opera in tedesco, e dice «State attenti prima di tutto a questo, sebbene io creda alla sacra scrittura più di quanto non creda a me stesso, voglio spiegarvi questa dottrina con un ragionamento naturale, affinché possiate capire da voi stessi che è così, perché è meglio un discorso argomentato e razionale». Ma vi è un passo ancora più famoso di quelli che ho appena citato, soprattutto tra gli specialisti di Eckhart, ed è il passo che segue, che ho lasciato anche in latino. L'autore ha qui, come in tutte le sue opere, l'intenzione di spiegare le dottrine della santa fede cristiana e delle scritture dei due testamenti, attraverso le ragioni naturali dei filosofi. Per aziones naturales filosoforum. Ora, questo è un passaggio tra i più famosi dell'opera di Eckhart, e proviene dal prologo al commento al Vangelo di Giovanni del Maestro Domenicano. E' un passo molto famoso perché è stato spesso utilizzato, e qui mi riferisco in particolare alla già citata scuola di Bochum, per mettere in mostra il razionalismo eccartiano contro un'interpretazione mistica del maestro domenicano, come se ci fosse un contrasto tra un uso rigoroso della ragione e l'esperienza di fede. Ora, il passaggio che abbiamo appena letto, quindi per aziones naturales filosoforum, però non è un semplice slogan, non è la rivendicazione di un esercizio autonomo della ragione, non è, in altre parole, l'anticipazione di una sorta di illuminismo. Ma è, come tra l'altro è stato suggerito, ma è piuttosto il risultato di una riflessione rigorosa e radicale sul concetto di verità. Secondo Eckhart, infatti, la verità, e questo lo dice molto chiaramente, proprio nel commento al Vangelo di Giovanni, la verità è una e non può che essere una. E infatti, sempre nel commento al Vangelo di Giovanni, Eckhart afferma cioè è la stessa cosa ciò che insegnano Mosè, Cristo e il filosofo. Sono uguali nel contenuto, ma aggiunge solum quantum ad modum difference, ovvero differenti rispetto al modo, come credibile, probabile, sive verisimile, et veritas. Ora, questo passo e quello successivo sono stati tradotti in vari modi. Vi ho dato nel testo tre esempi, due in inglese e uno in tedesco. Quello in tedesco, fatto da Kurt Ruhm, mi sembra quello più aderente al testo. E dunque la stessa cosa ciò che insegnano Mosè, Cristo e il filosofo differiscono solo nel modo come il credibile attribuito a Mosè, l'accettabile o probabile attribuito al filosofo e la verità incarnata dallo stesso Cristo. Ora, questi modi di interpretare e tradurre il passo eccartiano hanno una cosa in comune. Si riferiscono infatti, se guardiamo bene, ad una triplice struttura della conoscenza, ovvero il livello più basso credibile che corrisponde a Mosè, un secondo livello probabile, sive verisimile che corrisponde al filosofo e un terzo, l'ultimo livello, il più importante, la verità stessa incarnata da Cristo. Ora, secondo questa lettura, secondo questa traduzione, dunque interpretazione, il filosofo e la filosofia appaiono inferiori rispetto alla verità incarnata in Cristo. perché la filosofia non insegna la verità ma solo ciò che è simile al vero, verisimile appunto. Tuttavia, nelle interpretazioni che ho presentato, una di queste, ripeto, la più importante di Kurt Roo, però abbiamo anche John Connelly, c'è un problema. Perché se questa interpretazione, cioè se questo modo di leggere e tradurre il passo eccartiano fosse corretto, questo sarebbe l'unico posto di tutta la produzione di Maester Eckhart in cui sono indicati due livelli di conoscenza, tre livelli di conoscenza. Cioè, credibile, il primo, probabile, sive verisimile, il secondo, veritas, il terzo. Però, in realtà, in tutta la sua opera, Eckhart fa sempre riferimento a solo due livelli di conoscenza. che corrispondono a due livelli o a due modi di essere e quindi di conoscere. Cioè, il verisimile e la verità. Il verisimile riguarda la conoscenza di entità imperfette e mutevoli. La verità è, invece, riguarda gli enti immutabili, perfetti, eterni, divini. Ora, molto spesso, Eckhart, ma seguendo in questo, credo, una tradizione consolidata, usa le figure di Mosè e di Cristo come rappresentanti di questi due modi di conoscere. Mosè, l'antica legge, rappresenta ciò che è verisimile. Cristo, invece, rappresenta la verità stessa. Vi ho accluso nel testo un passaggio, uno dei tanti, in cui questa dicotomia tra Mosè, legge antica, rappresentante di ciò che è imperfetto, è verità, incarnata in Cristo, rappresentante di ciò che è perfetto, è esemplificata. E il filosofo che ruolo gioca all'interno di questa strutturazione, di questo rapporto tra verisimile e vero? Beh, nel famoso passaggio del commento al Vangelo di Giovanni che ho appena citato, Eckhart, e queste, parla di tre livelli, ovvero credibile, il primo, probabile, si ve verisimile, il secondo, e verità, terzo, che corrispondono il primo a Mosè, il secondo al filosofo e il terzo al Cristo, ma in realtà solo a due, come ha sempre fatto. Cioè, mi esprimo meglio, credibile, probabile, et verosimile, tutte e tre sono sinonimi e tutte e tre si riferiscono al regno, all'ambito dell'essere mutevole, all'ambito di ciò che perisce e ciò che si corrompe, di cui Mosè e l'Antico Testamento sono rappresentazioni. Se però la mia interpretazione è corretta, la verità, cioè l'espressione di ciò che è eterno e immutabile, non è soltanto incarnata nel Cristo, ma è anche ciò che dice, insegna il filosofo. Insomma, qui Eckhart sta affermando che Cristo è il filosofo, sono entrambi espressione della verità. In altre parole, l'insegnamento del filosofo è vero quanto quello di Cristo, identico non solo nel contenuto, ma anche nel modo. Eckhart dunque considera legittimo interpretare la Sacra Scrittura per Rationes Naturales Philosophorum perché la Sacra Scrittura è un testo filosofico così come i testi della filosofia ci parlano del divino. Una domanda può nascere spontaneamente. Da dove nasce questo approccio metodologico? Cioè, su quale fondamento Eckhart afferma o potrebbe affermare questa implicazione tra filosofia e rivelazione? Beh, maester Eckhart lo dice in realtà in modo molto chiaro in un altro passo del commento al Vangelo di Giovanni. Lo trovate sempre nel testo a vostra disposizione. Cristo, scrive Eckhart, come Dio incarnato sta al confine tra eternità e tempo, tra emanazione e creazione. Egli stesso è i Mago Dei ed esemplare della natura inferiore. Cristo è il verbo attraverso il quale tutto è stato creato. Attraverso l'incarnazione ha assunto la natura umana. Come in Cristo, e questo è importante, la natura umana è unita alla natura divina così nella scrittura sono unite la filosofia naturale e la scienza divina. Ecco perché, secondo Eckhart, è possibile interpretare la sagra scrittura come un testo filosofico, perfettamente congruente con ciò che i filosofi hanno scritto sulla natura delle cose e sulla loro proprietà. quindi per Eckhart la filosofia non ha una posizione ancillare rispetto alla teologia ed è un'idea a cui Eckhart è rimasto fedele in tutte le sue opere, sia quelle tedesche che quelle latine, ovvero la profonda convinzione dell'intima unità della verità. Ora Eckhart ha dedicato tutta la sua vita ad un progetto culturale che mira a mostrare che una vita virtuosa, la vita dell'uomo vedremo nobile, dell'uomo divino non può prescindere dal suo rapporto fondativo con la verità. Una verità che ribadisco ha parlato sia per mezzo dei profeti che attraverso le opere dei filosofi. Lo stesso Eckhart usa frequentemente modelli tratti dalla filosofia naturale per spiegare la relazione tra uomo e Dio. alcuni esempi unione tra animo e corpo forma e materia cibo organismo sono per Eckhart tutti modelli che esemplificano l'assimilazione dell'essere umano a Dio. Secondo Eckhart l'esperienza della divinizzazione dell'essere umano è la conseguenza di una legge metafisica come la chiama Loris Sturlese che regola sia i fenomeni naturali che le esperienze spirituali. Ora, uno dei temi in cui questo legame tra legge naturale e esperienza spirituale è proprio il tema dell'uomo interiore a cui sarà dedicata la seconda parte del mio intervento. L'uomo esteriore e l'uomo interiore è un tema tradizionale del pensiero cristiano. Dell'uomo esteriore parla Giapaolo nella lettera ai Corinzi che chiama vaso d'argilla corpo carne mortale. L'uomo esteriore è la parte visibile dell'essere umano è ciò che è visibile a tutti. Ora, questo è un concetto che era già presente profondamente nella filosofia antica soprattutto nella filosofia neoplatonica o anche nella filosofia stoica. Pensiamo per esempio a Plotino all'idea del corpo come carcere dell'anima Seneca Marco Aurelio sono tutti rappresentanti di una dicotomia dell'essere umano una rivolta verso l'esterno e una più propriamente concentrata nella propria interiorità. ora Maester Eckhart affronta la questione dell'uomo interiore in molte delle sue opere soprattutto tedesche quindi non soltanto in latino ma soprattutto in tedesco e tuttavia da una prospettiva diversa rispetto ad altri trattati altrettanto diffusi nel periodo in cui scrive Eckhart pensiamo per esempio all'operetta anzi all'opera di Davide di Augusta per rimanere in ambito tedesco la formazione dell'uomo interiore e dell'uomo esteriore quindi si tratta sicuramente di un tema tradizionale che però Eckhart interpreta ed esplica in maniera a mio parere diciamo fuori dal comune ma soprattutto Eckhart interpreta la dicotomia tra uomo esteriore e uomo interiore dal punto di vista della vera nobiltà dell'uomo della sua dignità e sul tema della nobiltà dell'uomo Eckhart ha dedicato molti sermoni in tedesco e anche un trattato sempre in tedesco intitolato appunto Fonee del Mensch sull'uomo nobile che a ben guardare risulta essere un commento ai versetti del Vangelo un certo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno per sé e ritornò versetto tratto dal Vangelo di Luca ora chi è il nobile di cui parla il Vangelo chi è l'uomo nobile in questo trattato Eckhart collega chiaramente il tema della nobiltà dell'uomo al tema dell'uomo esteriore e dell'uomo interiore e afferma appunto che l'uomo ha due tipi di natura corpo e spirito e quindi chi conosce se stesso conosce tutte le creature perché tutte le creature sono o corpo o spirito così anche le scritture dicono dell'uomo che c'è in noi un uomo esteriore e un altro interiore all'uomo esteriore appartiene tutto ciò che è attaccato all'anima ma abbracciato e mescolato alla carne e la scrittura chiama questo uomo esteriore vecchio uomo terreno uomo stile uomo servile l'altro uomo che è dentro di noi è l'uomo interiore e le scritture lo chiamano uomo nuovo uomo celeste giovane amico nobile ora come vedete la rappresentazione è fortemente dualista la distanza dice Eckhart tra dei uomini è maggiore di quella che esiste tra la terra e il cielo tuttavia e questo è un elemento importante non è una distanza insuperabile al contrario si può dire che ogni essere umano ciascuno di noi nasce come uomo esteriore il compito dell'essere umano però è quello di tornare alla propria origine di riscoprire in sé il proprio essere divino di diventare un uomo interiore parafrasando Nietzsche potremmo dire diventare ciò che si è sempre stati divieni ciò che sei ora il percorso che porta alla scoperta dell'uomo interiore corrisponde alla dimensione dell'imperativo agostiniano in te ipsum redi a differenza però di altri trattati dello stesso periodo Eckart non interpreta questo percorso verso l'interiorità come un insieme di regole da seguire ma piuttosto come auto scoperta di una capacità la parola che usa Eckart è Kraft tedesca eine Kraft una capacità naturale umana interna che dice Eckart di tale nobiltà e potenza che nessuna opera esteriore è troppo dura né abbastanza grande per trovare corrispondenza ad essa e poi c'è un lavoro interiore che né tempo né spazio possono racchiudere o contenere in diesem Kraft in questa forza in questa capacità c'è ciò che è divino è come Dio che nel tempo nello spazio possono racchiudere ed è come Dio in questo senso che nessuna creatura può abbracciarlo completamente o riflettere la bontà di Dio in se stessa allora dice Kraft che cos'è questa capacità che cos'è questa virtù Kraft in tedesco si può tradurre sia come virtus che anche come capacità quindi ha sia un significato morale che un significato fisico ora Eckhart chiarisce l'attività di questa Kraft interiore di questa virtù di questa capacità interiore attraverso un esempio tratto dalla filosofia naturale cioè l'esempio di una pietra che rotola dice Eckhart abbiamo un chiaro esempio di questa lezione con quello della pietra esteriormente la sua attività consiste nel cadere e poggiarsi per terra ora questa azione dice Eckhart può essere ostacolata perché non è che la pietra cade sempre senza interruzione eppure dice questa tendenza verso il basso della pietra è inerente è propria è naturalmente insita nella pietra ed è talmente naturale che né Dio né la creatura nessuno può fermarla ora qui Eckhart evidentemente fa riferimento alla teoria aristotelica dei luoghi naturali cioè secondo la teoria aristotelica dei luoghi naturali ogni elemento desidera tornare al suo luogo naturale la pietra gettata nell'aria tende a ritornare verso la terra il fuoco sale verso l'alto l'aria imprigionata nell'acqua ritorna verso l'alto quindi significa che ogni elemento ha il suo posto naturale verso il quale naturalmente tende questa è dottrina di Aristotele cioè che c'è un movimento naturale verso cui ogni elemento naturalmente tende ora secondo Eckhart e questo è interessante anche l'anima dell'uomo ha un luogo naturale e come ogni elemento ha un movimento innato naturale appunto verso il suo luogo di appartenenza anche l'anima ha un movimento naturale innato verso il suo luogo ora qual è il luogo dell'anima il luogo naturale dell'anima Eckhart lo dice chiaramente il luogo l'origine naturale dell'anima verso cui l'anima naturalmente tende è il divino ora questa attività naturale che ripeto secondo Eckhart è innata ed è propria dell'essere umano può certamente essere impedita ma non può mai essere distrutta proprio perché è essenziale al suo essere umano cioè noi non saremmo degli esseri umani se potessimo distruggere toglierci dal petto questa forza interiore ora il luogo naturale dell'anima è quello in cui dice Eckhart l'anima sperimenta la vera conoscenza e la vera pace al di fuori di questo spazio le anime umane vagano senza casa come l'uomo nobile che se ne andò in un paese lontano o il figlio il prodigo che vuole tornare a casa l'inquietudine psicologica dell'anima sofferente che cerca la sua origine che ha momentaneamente abbandonato viene interpretata da Eckhart sulla base della teoria aristotelica dei luoghi naturali ai quali ogni elemento cerca di tornare quando ne è staccato ora questo significa che secondo la dottrina eccartiana l'uomo esteriore vive la sua vita in una condizione di alienazione da se stesso incapace di cogliere il divino in sé vive una vita che non è vita inautentica caratterizzata da una serie di azioni senza senso l'uomo interiore al contrario riesce a cogliere pur nella turbolenza della vita e delle sue mille manifestazioni il fondamento di ogni azione e di ogni virtù questa scoperta interiore questa scoperta del fondamento interiore del grunt che è stato ieri ricordato si basa esclusivamente su un elemento razionale naturalmente rivolto al divino che Eckhart nelle sue opere chiama seme castello scintilla e che è caratterizzato da un rapporto profondo e consapevole con il divino da cui deriva l'uomo interiore vive così una vita autentica pienamente e costantemente consapevole del suo fondamento non alienato da se stesso ma interamente e pienamente se stesso l'uomo interiore in altre parole realizza pienamente la sua umanità diviene per citare ancora una volta il verso di Pindaro diviene ciò che è ora secondo Eckhart la nobiltà interiore di un essere umano è sia immagine di Dio in noi i mago dei ma è anche corrisponde anche alla parte razionale che è dice Eckhart il seme piantato da Dio in ogni essere umano ora la teoria del seme divino nell'essere umano richiama diverse tradizioni filosofiche di cui la più importante è quella stoica ma già estralmente studiata tra l'altro da Nadia Brahi e questa tradizione stoica di cui Eckhart si serve abbondantemente è stata trasmessa da origine Seneca e Cicerone la dottrina del seme divino piantato in ogni anima razionale cerca spontaneamente di tornare alla sua origine cioè Dio anche in questo caso questo processo naturale può essere nascosto ma mai distrutto come dimostra il passo sempre tratto dal trattato sull'uomo nobile che trovate nel testo mi avvio verso la conclusione vi è un altro sermone in tedesco in cui Eckhart commenta il versetto sull'uomo nobile omo quidam nobilis abit in regione longiquam si tratta del sermone 15 ripeto sermone in alto tedesco medio in cui Eckhart presenta in modo abbastanza fedele la teoria aristotelica dell'animo umana che confronta con la propria visione Eckhart commenta la parola omo di cui Eckhart offre due definizioni la prima quella di aristotele introdotta dal verso un uomo è partito e continua dicendo che come tutte le creature sono contenute razionalmente come immagini e forme negli angeli e gli angeli conoscono ogni cosa razionalmente con distinzione così l'uomo comprende le immagini e le forme di ogni creatura con distinzione mit dice Aristotele diceva afferma che un uomo è un uomo perché capisce tutte le immagini e tutte le forme cioè definisce le forme ed è questo ciò che fa un uomo un uomo e aggiunge Eckhart è la più alta qualità che Aristotele poteva attribuire ad un essere umano alla posizione di Aristotele Eckhart oppone la sua trovate sia il testo in alto tedesco medio che in traduzione Eckhart ritiene che omo significa un uomo a cui è stata aggiunta una sostanza che gli dà essere vita ed essere razionale e aggiunge l'uomo razionale è colui che comprende se stesso razionalmente ed è in se stesso distaccato da ogni materia e forma quanto più è distaccato da tutte le cose è ripiegato su se stesso quanto più chiaramente e razionalmente conosce tutte le cose dentro di sé senza rivolgersi all'esterno è chiaro qui Eckhart segna la distinzione tra due concezioni dell'essere umano o tra due concezioni di razionalità quella aristotelica secondo la quale l'essere umano ha un principio formale ovvero l'anima che è in comune con gli altri esseri viventi ma che negli uomini ha in più un'attività razionale l'altra l'idea Eckhartiana secondo cui l'essere umano è essere umano perché possiede una sostanza substanze dice che gli è propria che gli dà essenza vita ed essenza intellettuale Eckhart chiama questo secondo tipo di uomo verniutiger mensch essere umano razionale mensch in tedesco significa entrambi maschio e femmina non soltanto uomo nel senso maschile ed è un verniutiger mensch un uomo razionale un essere umano razionale colui o colei che sperimenta la sua razionalità ritornando su se stesso e conoscendo se stesso grazie a questa autocoscienza l'essere umano scopre la sua origine il suo luogo naturale la sua divinità vado verso la fine questa scoperta a pagina 11 questa scoperta di sé come divino è una scoperta che come Eckhart ripete più e più volte cambia completamente l'essere umano che ne fa esperienza la conoscenza del proprio essere divino ha per l'uomo interiore conseguenze sulle sue azioni quotidiane l'uomo nobile der Edelmensch è distaccato pensa a ciò che è importante conosce spontaneamente ciò che è vero buono e giusto non esercita la virtù perché è costretto ma perché sa che cos'è la virtù l'uomo nobile è la virtù riconosce all'altro essere umano la dignità che gli spetta l'uomo esteriore invece rappresenta l'individualità naturale è situato nella dimensione spazio-temporale vive solo nella sensibilità in modo non riflessivo non conosce né se stesso né Dio si orienta rimanendo al livello delle facoltà razionali più basse quelle in comune con gli animali l'uomo esteriore ostacola così attraverso le sue azioni la manifestazione del seme divino impiantato da Dio in lui questa forma di vita è vicina a quella degli animali e i sacramenti dice Eckhart lo aiutano ad essere moralmente orientato al contrario l'uomo interiore vive nella dimensione dello spirito grazie alla sua razionalità al suo intelletto cerca la verità con la ragione e il bene con la volontà realizzando così consapevolmente il suo essere veramente umano se la caratteristica dell'uomo interiore è l'esercizio dell'intelletto come credo spero di aver mostrato allora è inevitabile che colui che conduce razionalmente la ricerca della verità il filosofo è già sulla via della perfezione l'universale non può essere dedotto dalla sensibilità ma viene dalla interiorità e dello spirito di Dio che dice veritas quasi via dei ad hominem interiorem grazie grazie professoressa beccarisi per la sua grande chiarezza e questo luminoso commento sui testi di maestro e card io ho due tre domande ma devo dare la priorità ai partecipanti dunque cominciamo con Joey Balezza a Cambridge Joey se vuoi parlare direttamente con la professoressa sì allora grazie grazie per questo intervento splendido allora mi confesso di essere un po' ignorante al riguardo di Eckhart però sono stato molto colpito dall'integrazione della dottrina aristotelica dei luoghi naturali per descrivere il movimento dell'anima verso Dio lei ha anche fatto riferimento a questa parola latina scintilla nel contesto della costituzione dell'anima umana in Eckhart e poi ha anche parlato della seme piantato da Dio in ogni uomo quindi vorrei chiedere se qui ci fosse in Eckhart anche l'influenza di San Bonaventura che ebbe questa dottrina di razioni seminali e la scintilla sinderesis per illustrare l'ascensione dell'anima umana in unione mistica grazie grazie della domanda effettivamente la questione delle razioni seminales credo che provenga Eckhart soprattutto dalla tradizione agostigiana agostino torna sempre anche come filosofo teologo diciamo mi trovo un po' in difficoltà utilizzare le due parole come se fossero distinte in ogni caso troviamo agostino accostato o meglio citato nelle opere di Eckhart ogni volta che troviamo appunto i temi legati alle razioni nell'anima perché in fondo il seme nell'anima viene paragonato anche lo troviamo per esempio in Tommaso Tommaso quando parla dei semi nell'anima fa riferimento alle razioni seminales che sono di fatto parte della tradizione agostiniana quindi si ritrovano anche in Bonaventura però l'origine è agostino e credo che in questo caso Eckhart sia più vicino alla tradizione diretta agostiniana riguardo poi alla scintilla la scintilla attenzione non è forse questa cosa non è emersa chiaramente in quello che dico che ho detto cioè non è l'anima nel suo complesso che è scintilla ma è quella che ho chiamato che Eckhart chiama Kraft terzele o la potenza ripeto nella doppia accezione di Kraft come potenza o come virtù virtus ed è un elemento intrinseco all'anima dell'uomo è il fondamento il grunt ieri è stato citato spesso la parola grunt è proprio il fondamento dell'anima ed è questa la parte che poi cerca di salire o di tornare alla sua origine ora per ritornare alla sua domanda non ci sono evidenze testuali che il riferimento di Eckhart sia la sinderesis di Bonaventura per quanto egli usi anche questa espressione il suo riferimento primario è sicuramente la tradizione agostiniana lo stesso agostino grazie grazie a lei sono bravi questi giovani teologi americani allora c'è una domanda e sto chiedendo a IP G Ham di dirmi il suo nome e cognome ma mi ha chiesto di leggere questo commento lo farò dunque per gli ascoltatori nel futuro comincio con semplicemente la prima domanda mi scuso ha scritto il suo nome nella chatbox José Ángel secondo lei professoressa la mistica di Eckhart è una mistica aperta a tutti gli uomini cioè non una vocazione per alcuni scelti ma per ogni cristiano anzi per ogni uomo punto di domanda rispondo subito allora sicuramente sì la mistica di Eckhart o comunque la dottrina eccartiana è qualcosa che è rivolto a tutti gli esseri umani ho usato coscientemente la parola esseri umani non solo anche non cristiani e l'accento che Eckhart pone sulla filosofia sull'elemento razionale cioè su ciò che contraddistingue quell'essere umano in quanto tale è il segno che Eckhart si rivolge a tutti e tutte indipendentemente dal fatto che siano cristiani o no è veramente un messaggio ad ognuno e ognuna quindi sicuramente la mia risposta è positiva alla prima domanda continuo io o vuole fare lei io io ho fatto la domanda io io leggo la domanda possiamo pensare dunque sempre da padre José Angel possiamo pensare che questa impostazione di Eckhart ha relazione con quel principio del desiderio naturale di vedere Dio il naturale confluente nel sopranaturale che ha ricordato i tempi recenti in tempi recenti Henri de Lubac assolutamente sì possiamo leggerlo esattamente in questa prospettiva proprio perché il desiderio allora questa tensione questa craft come la chiama Eckhart che ha una tensione naturale verso il divino è un desiderio sì si può anche esprimere in forma di desiderio però nel momento in cui il desiderio non è qualcosa che è legato alla volontà è veramente un movimento naturale cioè non è che noi vogliamo o non vogliamo desiderare di tornare a Dio cioè possiamo essere impediti da questo movimento possiamo non esserne consapevoli ma non possiamo mai smettere di intendere naturalmente questo principio quindi desiderio nella misura in cui non è legato al concetto di volontà attenzione perché nell'idea di Eckhart tutto ciò che è legato alla volontà è in qualche modo una deviazione da questa tensione naturale nell'esempio della pietra la volontà è ciò che impedisce il movimento non ciò che lo aiuta bene allora io vorrei fare una domanda scusa scusa c'è un'altra domanda in francese sì dunque faccio la traduzione da padre Clément che infatti parla bene l'italiano ma forse un po' non preferisce farlo su Zoom grazie per la sua presentazione così vivace io non conosco cioè padre Clément non conosco bene maestro Eckhart ho una domanda un po' ingenua come capire il comandamento di amare Dio e il suo prossimo può essere una semplice adesione dell'intelletto punto interrogativo allora questo è interessante questa domanda bisogna bisogna intenderci sulla parola intelletto cioè su ciò che noi intendiamo con la parola intelletto quello che Eckhart vuole dire che non è che basta conoscere per amare Dio e il prossimo è chiaro che questa non è la sua posizione perché nel passo che abbiamo letto in cui cita Aristotele no lì avrebbe potuto dire aristotelicamente che la conoscenza ci porta la conoscenza di tipo discorsivo la definizione di qualcosa quindi l'intelletto come la facoltà che ci permette di definire qualcosa sia anche la facoltà che ci permette di amare Dio e il prossimo ma non è Eckhart non dice questo attenzione Eckhart non è Teodorico di Freiberg che prima è stato così ben descritto nella relazione precedente per cui per esempio per Teodorico di Freiberg l'intelletto divino è l'intelletto agente Eckhart non pensa questa cosa Eckhart si muove fuori dalla dicotomia aristotelica intelletto possibile intelletto agente Eckhart parla di una funzionalità dell'anima razionale della sua razionalità che cos'è la razionalità per Eckhart è la capacità di scoprire dentro se stessi la verità e questo per Eckhart è l'intelletto ed è qui che si situa tutta la differenza rispetto alla tradizione aristotelica allora esercitare un'attività intellettuale significa per Eckhart scoprire in se stessi la verità questo è Agostino ma prima di Agostino è Platone è Plotino è tutta la tradizione che da Platone in poi vede nell'interiorità dell'uomo l'origine nel fondamento della verità non a caso questo non l'ho detto ma può essere utile di ribadirlo adesso non a caso nel commento al Vangelo di Giovanni Eckhart citando Agostino dice tutto ciò che è scritto nel prologo del Vangelo di Giovanni è stato già visto da alcuni platonici quindi è chiaro che Eckhart si muova in quella tradizione quindi l'intelletto sì ma non è l'intelletto aristotelico cioè non basta conoscere qualcosa per amarla Eckhart dice qualcosa di molto diverso non è una semplice adesione dell'intelletto però non so se ho risposto Paolo Helmeier ha lasciato un commento una domanda in inglese dunque faccio la traduzione per i nostri ascoltatori professoressa lei sarebbe d'accordo che noi possiamo differenziare distinguere tra diversi termini in tedesco che Eckhart utilizza come il fondo dell'anima Grund penso che volevo dire Gipfel non Wipfel Gipfel è l'incime no Fünklein come dire in italiano e poi Kraft Virtus no Scintilla no Fünklein per esempio nella predica siamo nell'opera tedesca 20a Eckhart dice chiaramente che la Scintilla è sindresis cioè Habitus Intellectus Pratici ma nella predica 17 lui chiama il Grund il fondo dell'anima la natura dell'anima questo non è molto chiaro per me qual è il rapporto tra Grund intelletto eh anche questa è una bella domanda grazie non facile non ho una risposta certa questo credo che sia un problema interpretativo delle opere in tedesche di Meister Eckhart perché noi abbiamo per esempio lei ha citato la 20 e la 17 però per esempio abbiamo la predica 9 o la predica numero 1 Jesus and Travis in Templum in cui c'è chiaramente una identificazione tra il Grund e l'intelletto no cioè l'intelletto corrisponde al fondo dell'anima cioè il fondo dell'anima ha un elemento razionale è un tema è un tema in cui eccard underline l'importanza dell'intelletto e l'anima di l'anima dell'anima le c'è di dell'anima l'anima I think on 21, in which Eckhart emphasise the role of the one. In these sermons, the Grund corresponds to the one, beyond the intellect, beyond the will, beyond the individuality. So I think maybe this difference could be explained as a shift from an interpretation of the Grund as an intellectual part of the soul, as in the sermon number one or in sermon number nine, two, towards an interpretation of the ground or the sparks as the unum animen, proclian unum animen, as a fundamental point or ground of the soul beyond the rational part or rational activity of the human soul. So I think that in Meisterreicher's German works, the two perspectives are presence. And maybe we can interpret this double perspective on this topic as a shift from an intellectualistic position in sermon number nine to, I could say, mystical maybe position in sermon number 21. In this sermon, Eckhart speaks of negatio negationis, for example, a very important proclian topic. Negatio negationis means Negatio 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 negat Paul Hellmayer, if you wish, do you want to follow up in English orally and then Alessandra can respond to you in Italian or are we happy? No, no, English is good. Your English is very good. It's almost as good as your German and your French. You are very kind. I'm honest. So I don't know if I answer properly or reply to your question. Is Paul happy? I don't know. I'm mostly thinking of keeping... Can you hear me? Yes. Go ahead. I think that the problem is still there because Eckhart says so many things in so many different places about all those topics. But is there somebody who made something like a table for all this? I mean a tabula and could we compare this somehow or do you know something like that? Because sometimes he says scintilla and then Grund and Wipfel and all those different terms and there must be something behind that. I think it's not possible that he just says in one sermon that and in the other sermon that. There must be a concept behind it. I think it's a work to do. It's a work to do. It's a very important translation work. I think only in translating Meister Eckhart German works is possible to observe this ambiguity. I don't know if it's ambiguity is the proper term, but yeah, this range of different meanings for a word. We are trying to do this, yeah, but I think craft is a word that it's difficult to interpret, to translate because of this range of possible meanings. In the sermon number one, for example, craft is the castle and the castle is the scintilla, the spark of the soul. So this is a very clear, very, yes, doiting, and doiting in this sermon. In my opinion, craft is potentia rather than wesen, which is essentia. And shouldn't we keep those things more apart from each other? I think that in the Eckhart literature, there is too much intermingling of all those concepts. Very often people say, yeah, grund is scintilla and scintilla is craft. And without giving any explanation for that, it's very common that people say, yeah, craft is the same as wesen. But I don't think so, because at the beginning of your lecture, you told us that one idea of Eckhart was to bring all those philosophical concepts to the vernacular. And he must have thought something about that, otherwise his whole project would be very problematic. Yeah, I agree with you. For me, one possible explanation would be that he sees the soul as a hierarchy of levels. And the intellect is at the same time, the highest level, at the highest level of the potencies. It's the highest. And on the other hand, like in Albert the Great, we can say that the highest potency envelopes all the others. So it is at the same time, somehow, pars pro toto, the whole essentia. Yeah, yes. Because the nature is intellectual. So maybe that is the reason why sometimes wesen refers to the intellect and also to a kraft refers to the intellect. But there are two different aspects. The one is rather ontological and the other is more noetic. Yes, I agree with you. For example, in the passage from the sermon number 15, a sermon I just read, Eckhart to define the rational mensch, rational mensch, as a man, what is a man, what is the mensch, as a substantia. And this is an Albertinian theory, the anima, as a substantia. But if we look at the way Eckhart described the ground, He uses the terminology relating to the possible intellect as openness, as undetermination. That's why Kurt Ruh, no, no, Kurt Ruh, no, Moises, Kurt Flasch, and the old Bochum and Schule, thought that Eckhart was Aristotelian or Averroist, because in the description of the spark of the ground, uses the terminology of Aristotelian noetic, but in fact is not the case of Eckhart. Eckhart uses just the definition that Anasagoras gave for the intellect as openness, as what had nothing in common with nothing, but it's not Aristotele, it's a definition of Anasagora, and their ground as this qualification, as the characteristic, their ground is open, totally open, it is undetermined, as God. So I think there is on the ground some relating to the intellect, but we have to understand what intellect means, what rationality is, and I don't think this is Aristotelian rationality or Aristotelian intellect, even not of a heroistic theory. And before you said something about the one in the soul, and that it could be Proclean, Proclean, but in my view Eckhart never read Proclus. I agree with you. Yeah, never read. But maybe you had heard something about that, it's possible in an intellectual, only heard of it or, I mean it was there, so it could be that some manuscript was somewhere in Cologne or in Paris or so, it must have been, but at this time. But never read, I agree with you. I think the Unumu anime could be reached Eckhart through Dionysius, it's highly probable. I think Dionysius could be the first sources for Eckhart on this point, but not Proclus. Even though Eckhart could read the Elementatio Theologica, for example, but I think that also the Elementatio Theologica has been read through the Liberty Causes, through Thomas Aquinas, through, no, Albert the Great, no, because Albert knew the Elementatio Theologica very late, just in Summa Theologia, not before. I think he knew the Elementatio, but not the Opuscula. No, 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 not at all. No. No, this is, okay. There can be an issue, so sicher sein aber. Wonderful. So, we will take a break. I am tempted to schedule an optional third day of the colloquium, in which Paolo Helmeier and Alessandra Beccarisi will simply speak to each other about Eckhart, and the rest of us will be flies on the wall, delighting in this exchange about the riches of history. Allora, grazie professoressa Beccarisi per il suo intervento e questa discussione tanta ricca, e interessante. Noi facciamo un viaggio dalla Renania a Mount Athos, e tra 25 minuti con Marcus Plested e Gregorio Palamas. Grazie di nuovo. grazie, arrivederci sono sempre qua